Direi per noi una buona vittoria che ci dà continuità nel lavoro, siamo alla mia quinta partita ma alla seconda casalinga, sappiamo che abbiamo avuto due trasferte impegnative perché comunque sostanzialmente il sottoscritto e la squadra non si conoscevano, quindi non appena abbiamo preso un po' di routine settimanale è venuta fuori una vittoria contro Treviglio per Entoria, una sconfitta di misura a Biella e questa partita che devo dire è stata giocata con grande spirito dai ragazzi. Abbiamo iniziato un po' timorosi, un po' pensierosi direi perché devo dire la verità per noi l'infortunio di Gabriele Venetti è stato importante anche per come è successo, quindi la squadra ci ha messo un attimo per entrare in ritmo partita, devo dire che dopo di questo nel secondo quarto arrivavamo lì a mettere la testa avanti ma non riusciamo mai a farla, quindi io continuavo a spronare i ragazzi in questa direzione perché comunque la sensazione era che ci dovessimo soltanto un po' sciogliere, l'abbiamo fatto nel secondo quarto devo dire verso la fine e poi nel secondo tempo abbiamo mantenuto con una buona energia, autorità e personalità la partita nelle nostre mani, anche quando Eurobasket in modo molto smart con Piazza e il Berkis soprattutto, anche con Sim giocavano le situazioni di short roll, di pick and pop che ci hanno messo un po' in difficoltà, però devo dire che i 79 punti concessi di cui i 5 che mi hanno fatto comunque arrabbiare una partita finita sono un indice di una partita giocata con grande energia che ha concesso ogni quarto sempre meno agli avversari, quindi oggi c'è ad essere soddisfatti, è solo un primo passo, però intanto incominciamo a prendere i primi frutti del lavoro e a farlo appunto il modo perentore, perché comunque oggi al di là della vittoria di energia è stata anche una vittoria di personalità perché Eurobasket non l'ha mai mollato e siamo stati bravi a tenerli lontani, non è facile perché Eurobasket è una buona squadra, quindi un mio onore agli avversari e complimenti anche ai miei ragazzi che sono stati bravi. Francesco? Buon pomeriggio, una domanda su Betovato, nelle primissime partite lei non lo ha realizzato molto e sembrava piuttosto anche fuori dal contesto, invece adesso Abbiella, Antriviglio, soprattutto oggi è molto inserito, molto determinato anche rispetto alle scelte che fa il campo, lei ha visto qualcosa o semplicemente aveva bisogno di lavorarci un po' con il suo ragazzo? Diciamo, una cosa diventa in conseguenza l'altra, quindi ripeto, la prima settimana se mi passate il termine è stata di studio reciproco e purtroppo ci sono state due partite e questo non ci ha aiutato. però io ho il grande rispetto di lui come ragazzo, come giocatore e della sua etica del lavoro e io siccome credo che il lavoro paghi a lui ho detto semplicemente che lo volevo utilizzare in modo diverso. Così è stato e devo dire che per adesso è un modo produttivo per lui e per la squadra. E' un po' di curiosità. Per la prima, nella crescita della sua squadra, Roberts sta crescendo esponenzialmente insieme al resto dei compagni, volevo chiederle una considerazione sulle responsabilità che si aspetta proprio da Roberts qui nel corso della stagione e se in vista la partita contro Siena un'altra partita da un significato importante evidentemente, crede che proprio le partite significate possano dare alla Virtus una spinta più diversa della stagione? Ma io credo che tutte le partite da qui alla fine del campionato saranno importanti per la Virtus perché l'obiettivo è quello di vincere il più possibile per risalire la classifica. Roberts è un giocatore che sa giocare a basket, ha delle caratteristiche, quelle che vengono chiamate skills, abbastanza chiare. Però credo che sia altrettanto importante che la squadra sia in grado di coinvolgerlo. Quindi è sempre un lavoro di squadra, poi ce l'abbiamo, siamo fortunati ad averlo e quindi il mio lavoro è cercare di far rendere e utilizzare meglio tutti i giocatori. Quindi ci aspettiamo da lui che continui e ci aspettiamo da tutti che crescano perché la soddisfazione più grande di un allenatore in generale è all'interno di un percorso vedere ogni individualità cresciuta e quindi la somma dell'individualità cresciuta porta a una squadra che migliora e cresce. Ci sono altre domande del coach? Il coach ha due domande. La seconda rispetto alla partita da Pugliella è un lavoro migliore soprattutto durante i piccoli che hanno migliorato tutti quanti appunto in squadra, ha preso un miglioramento dovuto ad un aspetto fisico, tanto di contesto e psicologico. Allora il DAS ha preso un brutto colpo su una situazione di uscita, di gioco, ma è soltanto un colpo salvo poi faremo le analisi del caso ma io mi auguro che non ce ne sia bisogno perché dopo la fine diceva stava già meglio ecco, ha avuto proprio un impatto, un colpo da impatto quindi auguriamoci che non sia niente. Sì direi che tutti abbiamo fatto un po' meglio perché comunque è vero il discorso dei piccoli ma è vero in generale il discorso della squadra perché comunque la sensazione è che ognuno stia comprendendo qual è il proprio ruolo all'interno della squadra e che dia il proprio contributo fattivo alla crescita di questa. Indipendentemente dai minuti che si gioca io gli chiedo un'applicazione per raggiungere l'obiettivo di squadra. Questo è il mio focus soprattutto perché i giocatori devono essere funzionali alla squadra e non viceversa, quindi mi sembra che questa mentalità la stiamo comprendendo, però come dicevo prima è un percorso, è un percorso da fare insieme sicuramente le vittorie aiutano un po', danno convinzione, danno determinazione, danno tutte quelle sensazioni positive che ti fanno lavorare meglio durante la settimana.